Il parcheggio della Siena alla Mandra, a che punto siamo Gianni Vos? Non è che chiedi a Cienzo come se fossi il direttore dei lavori, non sono direttore dei lavori, vivo soltanto alla Mandra e visto che è stata iniziata quest'opera mi fa piacere se viene completata il più presto possibile. E devo dire come mostrano pure le immagini che in effetti è stata già completata la struttura dell'auditorium, questa sala chiusa che ospiterà 400 posti a sedere, fino a 3-4 giorni fa c'erano i ferri per fare la parte cemento armato superiore per il solaio. Adesso è stato coperto il tutto, fra qualche giorno sarà impermeabilizzato, dopodiché sarà coperto di terreno e verde, quindi non si vedrà niente più. Poi c'era la parte invece riguardante il parcheggio vero e proprio, siccome dovranno scavare un pochino una profondità maggiore, questo non è che farà perdere più tempo, ma dovrà chiaramente permettere di incassare, almeno questo è quello che mi ha raccontato e dichiarato l'avvocato Santarone, dovrà essere incassato il prefabbricato dei due piani del parcheggio. Però di positivo, da quello che mi è stato detto, di positivo c'è il fatto che hanno bloccato, con il cosiddetto tappo di cemento, hanno bloccato la fuoriuscita di acqua, quindi questo è già un bel passo avanti e allo stesso modo, così come si è proceduto per realizzare l'auditorium, si procederà per realizzare anche il parcheggio, e quindi i tempi, lui mi parlava di un mese e mezzo, dico due mesi, magari anche tre, comunque siccome ha detto non vorrei sbagliare ulteriormente, mi diceva l'avvocato, entro il 2016 senz'altro sarà utilizzato il parcheggio, precedentemente parlò di un mese di luglio, però siccome i tempi quando si cominciano a fare il lavoro, anche nelle nostre abitazioni si sa quando si comincia, ma non si sa quando si finisce, e allora giustamente per prudenza l'avvocato diceva entro il 2016, comunque l'opera sta qua, si lavora fino alle 10 di sera con due squadre che fanno due turni operai, quindi non è che abbiano abbandonato il lavoro. Adesso si procederà per gli arredi interni dell'auditorium e quindi cominciamo a vedere almeno un'opera conclusa, cosa di completo.